Per Francesco Zampano, quella di sabato a Genova, a Marassi con la Sampdoria, non è una partita come tutte le altre. Hai giocato anche nella Sampdoria, sei genovese, quindi giocherai a casa. Ah beh, quello sicuramente. Ho giocato fin quando ero piccolo, dai Pulcini fino alla primavera. Sono stati 12-13 anni molto belli, ero piccolo. Comunque sì, torno a casa, a Genova e niente. Speriamo di fare la partita noi, di ottenere la vittoria e sicuramente fare una grande partita. Marassi è uno stadio che regala comunque emozioni. Pescara cinque anni fa in quello stadio conquistò una promozione in Serie A. Sì, mi ricordo, ha fatto pure il gol Caprari. Sì, sì, noi adesso settimana prepariamo bene la partita e cercheremo di comunque dare il massimo. Quello che non c'è riuscito contro il Chievo e delle partite dal 5-0 comunque di Genova, quindi speriamo bene. Veniamo da una sconfitta domenica contro il Chievo che adesso stiamo preparando bene la partita e sicuramente loro vorranno vincere perché comunque Marassi è uno stadio importante, un tifo importante e vorranno fare bene anche per i tifosi, quello che vorremmo fare pure noi e per le persone comunque che vorranno a Marassi, i tifosi del Pescara e niente. Speriamo di regalare una gioia anche ai tifosi. Lo dicevi anche tu prima, non dovrete commettere gli errori commessi al Bente Godi con il Chievo. Sì, sicuramente, settimana ci stiamo allenando bene e speriamo di fare risultato.